Le previsioni del tempo per martedì 21 gennaio, cielo poco nuvoloso per nubi basse e cumuliformi in arrivo dal mare ed ampie schiarite nel pomeriggio, precipitazioni assenti, temperature minime in diminuzione e massime stazionarie, venti nord-occidentali di brezza tesa, mare da mosso a poco mosso, durante le ore notturne gelate nelle zone interne e nei fondovalle. Grazie.